Quanto stanno? Quanto è bella la polpetta, a me mi piace, guarda, c'è pure caldo, non ci avviciniamo troppo, dai, perché porretta, a me non mi dispiace la polpetta. Vuoi mangiare il pollo? Perché? Attenta che questa ti si mangia, tutti, ah già ti ha mangiato il volpetto, vieni, vieni qua, vieni, però il gatto ne dice niente, quella si è andata a mettere lì perché ha sentito che c'era il gatto, hai capito? Ah beh, perché devi sparare, a me non mi dispiace, micio, eh, avete indossato la mica tua, sta là, è il volpino, eh. Hai scattato, eh. Grazie. 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 Grazie.